ragazzi siamo su stick the dead crema è anche lo che si ci si era donati oggi per un nuovissimo video dove andiamo? si perchè la cc mi interrompe andiamo qui la volta guido io Emma perchè l'altra volta ci hai fatto no no sto guidando io grazie Emma ti voglio no io sto qua va bene è il posto migliore dai tizio entra dentro no no non ci si deve fare la cacchina dossina oh my god no aspetta una tacca di volume mettetela una tacca di volume la cecchia ce l'ha tutto il volume no poco volume che cacchina no raga io non ho ma a voi vi fa paura si cecchia a noi fa paura tu stai zitta buongiorno ma perchè? dobbiamo pulire pulite alla bluesy dobbiamo pulire ok? si sto pulendo puliamo ma toglietevi stai calma alla fine Emma l'altra volta abbiamo sbagliato stai un po' calmina dai dopo ti faccio vedere allora intanto noi andiamo su allora raga c'è qualcuno che deve preparare dopo il cibo c'è un'altra che deve stare lì a rifillare a rifillare la roba cosa significa a rifillare la roba a rifillare la roba a riempire raga mi si sta baggando tu io non ho capito ancora cosa bisogna fare stai calma allora tu adesso ok e le dobbiamo preparare i noodles dobbiamo fare i noodles ne facciamo solo 4 per noi non tutte ma raga chi è che spegne le luci? siete fuori? ma siete fuori cecea non spegnere le luci per favore oh bro o la bro stai calma cecea mi fai prendere ciao daddy cecea stai un po' zitta dai si a tutti anche noi anche noi ci servono ok ho 11 batteri sto facendo io l'onora togliti ma io non sono ma è l'Emma non sono io sono ferma in un punto tutto il tavolo? si no sono 4 cose sono 4 noodles io sto facendo io sto facendo il quarto quindi voi non dovete fare dove lo devo mettere? sul tavolo dove c'è scritto put noodles e prendete tutte perché non mi chiede d'acqua per dopo esatto 7 io mi metto ma raga mancano due robie di noodles chi li ha mangiati? io no raga mancano oddio li faccio io ah no io per sbaglio li ho mangiati tutti cecilia scusa ma ti sembra il caso? penso perché io li stavo mangiando poi grab glass no raga qualcuno ha mangiato i noodles qua però smettiamola io non ho fatto niente raga ma a me non mi fa mettere il cibo cecilia smetti di mangiare i noodles ma no cecilia non si mangia i noodles io non ho mangiato uno o due no no cecilia tu non cucini più no 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 la cecilia non può più raga ma basta ma perché mi avete fatto sedere qui? raga chi è che mangia i noodles? basta no con le linee ho mangiati io per sbaglio devo prendere un un coso devo premere un tasto per mangiare raga ma abbiamo solo un noodle cioè no raga allora allontanatevi tutti e due sono l'unica che deve premere dei tasti quindi sono l'unica che sa se non ok eat your dinner with dad qualcuno non ha mangiato io ho mangiato io no mi ammi raga no raga fermi fermi adesso no venite qui venite qui e cucinate altri noodles riempite tutta la tavola di noodles ah si giusto perché? perché così dopo quando abbiamo fame possiamo metterli lì fidatevi di me ma io non so come si fa dai ti togli dai basta che non mangi il cibo Cecilia ecco raga però non dovete mangiarli è uno raga tenetevelo nell'inventario come si fa dai chi è che sta cucinando si muova io sto cucinando raga un noodle lo tenete nell'inventario raga ma chi è che mangia tutti i noodle basta io eh Cecilia non mangiare ma a me non me li fa mettere la Cecilia che li manda la Cecilia al posto di metterli li manda perché a me non me li fa mettere adesso stai ferma e non fa niente raga avete visto come mi tratta mia sorella? aspetta ok uno ceci cosa? uno lo prendo nell'inventario ok prendetevi non sono tutte e le non sono tutti pieni cosi eh vabbè ma hai detto tutta la tavola? eh vabbè si aspetta raga ce l'ho l'ultimo io e poi uno raga lo tenete nell'inventario ma come si fa a mettere nell'inventario? lo lasci lo togli cioè perché qui dopo ti mettono un noodle avete preso tutta l'acqua? sì io sì io no devi prendere un bicchiere e poi prenderlo con l'acqua sì ma io c'ho già in mano il cibo non ce l'hai in mano proviamoci io vado a rifillare il generatore cosa dite? sì va bene allora intanto qui abbiamo tutto il cibo ok venite qua per sovrappure sì allora rifilla ok cento e lei non va come si fa? sentite cosa dice vostro padre aspettate non so come si dov'è il nostro padre? ma dov'è? era un ora mi guardi ma non ti guardo sei troppo brutta ma Cecilia dove sei? vieni qua ma se ce l'hai già c'è un'altra cosa che c'hai there we go side to check e Cecilia per le tue informazioni stai dicendo io andrò fuori a controllare voi guardate la tv e potete guardare la tv scusate ma sono fuori ok ma ricordate di essere sicuri di dormire alle dieci ok oppure papà potrebbe arrabbiarsi moltissimo se no nostro padre si arrabbiara quindi adesso dobbiamo andare di sopra no aspettatemi io voglio il mio letto qui aspettatemi Cecilia stai calma per favore Eleonora mi rompi un botto sì però ci dai a tutte l'ansia però anche te no raga scrivetemi qua sotto nei commenti se mia sorella vi dà fastidio perché a me è molto stai zitta c'erano quelle della cucina e venite tutte giù vai spegniamo le luci aspetta non sono io raga ci sono ancora tutti i cosi stanno lascia scritto i noodles io ho visto di sì voi voi raga accendete le flashlights io non ce l'ho la flashlight sì ce l'ho raga il bagno io non ce l'ho la flashlight no e amen tieni ti faccio io luce tutte qui raga sto spegnendo le luci un secondo allora io voglio dormire vicino a voi no andiamo di sotto a guardare la tv ok raga accendiamo riaccendete tutte le luci io ho paura cecilia raga quelle che servono Eleonora ti sto per tirare un pugno veramente bene allora non mi interessa c'è il messaggio dell'fbi allora dice che qualcuno non sa di achillo e sta girando per la città e in caso lupidissimo dovremmo chiamare subito la polizia ceci le ha avuto hai capito ceci ok il nostro padre ricordatevi che il nostro padre ha detto di andare a dormire alle 11 quindi alle 11 non aveva detto alle 10 11 alle 10 10 ok che cosa dobbiamo fare adesso mi sa che dobbiamo andare di sopra ad attivare no raga dobbiamo andare dal nostro padre a vedere se sta bene quindi quale porta eh là allora no no non questa accendiamo le luci no raga che paura no ceci la stai zitta mi sto già facendo la pipì addosso ecco bene no raga se mi portate qui io mangio raga non spegnete le luci please io prendo la fissa non mi interessa raga tanto chi se ne frega raga aspettatemi non lasciatemi sola raga non guardate cosa raga no raga dormite 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 sta arrivando il nostro padre dormite ok raga brave dormiamo tutte raga non mi sto facendo la pipì addosso ti tirano dormi e basta no è le nostre se le è neanche a me dormite ma il nostro padre quando vorrebbe arrivare io vi sto facendo la pipì addosso ma il nostro padre dov'è raga 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 ma come la parte 2 non mi stoic p' non mi stoic で